Saranno 75.780, di cui 36.281 maschi e 39.499 femmine, iarettini al voto sabato 8 e domenica 9 giugno. Ad Arezzo si voterà esclusivamente per il Parlamento europeo e quindi sarà consegnata una sola scheda. Rispetto all'ultima tornata elettorale, le politiche 2022 si registra un più 2.244. Vanno poi aggiunti i comunitari residenti ad Arezzo che hanno fatto una domanda specifica per votare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Sono 188 in totale gli elettori più giovani, 3, compiono 18 anni proprio al novantesimo minuto, anzi nel recupero. Pur diventando maggiorenni la domenica, potranno infatti votare anche di sabato, praticamente a 17 anni e 364 giorni. Il più anziano elettore di anni ne ha invece 110. In termini quantitativi, la sezione più numerosa è la 8, la ex caserma Cadorna, con 1.288 elettori, di cui 615 maschi e 673 femmine, che torna in testa dopo essere stata superata nel 2022 dalla 92 all'elementare di via Benedetto Croce. Per trovare la meno numerosa occorre salire, come da tradizione, a Santa Maria la Rassinata e la 85 con 57 elettori. I deputati al Parlamento europeo eletti nei 27 comuni dell'Unione europea sono 720 calati rispetto al passato per effetto della Brexit, ma è leggero aumento rispetto al 2019 quando erano 705. Sono ripartiti sulla base di due criteri, popolazione di ciascuno Stato e livello minimo di rappresentanza. Si va dai 6 di Malta, Cipro e Lussemburgo ai 96 della Germania, seguita da Francia 81 e Italia 76.